Siamo venuti qui, spero di portare la parola di San Mundo, con le telegattive. Sto a cura, ma non c'è, ma è un altro, ma devo dire. Questo è comunque lo stesso gruppo. Ora, una cosa come troppo buona di questi franzi, che senso è che non è buono, ma dai, invece, è tuo. Noi, 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 no Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!